Tartwig, inizia con l'attacquazione, vai! Bravissimo, Tartwig! Adesso usa foglie lama! Wow, complimenti! È estremamente rapido, proprio come piace a me! Cerubi, ritorna! Il tuo Tartwig è uno dei migliori che abbia mai visto! Io te l'avevo detto! Ehi, l'ha già ritirato! Credo stesse solo tastando il terreno! E ora si comincia a fare sul serio! Tocca a te! Ehi, anche lei ha un Tartwig! La sfida inizia a farsi interessante! Non ci resta che farle vedere quanto siamo veloci! Azione, vai! È davvero rapido! Ma non abbastanza! Cosa? Pensavo che sarebbero entrati in collisione! Caspita, è più veloce della luce! Se è riuscito a spostarsi così in fretta, devi stare molto attento! Tartwig, usa l'attacquazione un'altra volta! Usa parassi semi! Ehi, lo sta mettendo in difficoltà! Liberatene presto! E ora attacquazione! Oh no, Tartwig! A quanto pare il Tartwig di Ash non può continuare! In effetti quello di Gardania è davvero potentissimo! Tartwig, ritorna! Sei stato grandioso! Gardania non gli ha fatto fare mosse particolari! In compenso, è molto rapido! Niente a che vedere con quello di Ash! Lui ha ancora molto da imparare! Non cantare vittoria! E in guardia, carina! Il nostro incontro non è ancora terminato! Questo lo so! Grazie a tutti!